Grazie a tutti. Sì, spero di insegnare questa macchina. Sì, è così. Sì, è così. Sì, è così. Alla fine. Ma come guarda? Guarda. Guarda qui. 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 questo è il tuo peggio d'info, il tuo peggio d'info, il tuo peggio d'info, il tuo peggio d'info, che avete possesso protetto, e quando arrivi, quando alleniamo con un salvatore, una malipiglia ti stringe, un salvatore separato, la linea con cui sei riconosciato, il tuo peggio d'info, quando hai conto, dicimi, dicimi sempre che vengono attivati, la testa qua, è a confronto, la testa d'info, perché se succede una cosa che arrivi da una, la tua testa l'hai d'info, perché se l'hai con la testa e ti stringono da barra, hai un peggio d'info, perché si stringono da barra, un'altra testa, capito, andiamo, 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 to andare, andiamo, 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 andiamo malameni, stai attenti, guardate, laован'altra i time stitch, andiamo bene, ora andiamo quindi saranno libertà da barra, scrivono la testa, allora quando abbiamo andato la barra Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.